what the fuck ma è un coltello è pericolosissimo ma c'è una faccia no no e dov'è lo schermo e di serio perché in realtà me li diesero quando chiuso un negozio ma sono quelli mock up è finto e vabbè no ma è un vero no è finto non è lo schermo c'è un adesivo sopra ma che cazzo è successo qua ma cos'è ho una figlia ti faccio la capisciata complimenti mi diciata ma la dici così a lui non sapevo come dirvelo bellissimo come hai messo la scusa del telefonino che faccio vedere è una minuccia si sa già il nome complimenti come si chiama Luis eh non ho ancora deciso il nome adesso si e niente vabbè torniamo a vedere i tiktok volevo far vedere questo in realtà vabbè però ci mi ho scordato una bellissima notizia ma non è che la tua ma si chiama baby girl tua figlia si no adesso gli unici si chiama ab 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 si chiama forse princess la chiamo princess princess pizza pizza di una cosa sessuale ma scusami ma perché c'è un piede su una pizza non lo so ma è la prima volta che lo dici che lo dice cioè in generale si 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 è esclusiva qui su canale Omi e si e si e si no no vabbè non so se sia una gag ragazzi non voglio chiederlo beh no cos'è mi metto a fare si sarebbe strano sarebbe strano che tu sarebbe super strano si che avessi comprato o se non avessi una bimba e avessi questa roba in casa quindi no sarebbe sì sarebbe veramente veramente strano ma poi scusami credo che quello sia l'ingresso ma festeggi ah sì perché tu entri in casa e ovviamente si tira eh sì e no perché l'ha svelato alla sua fidanzata lui l'analisi sorpresa sì no penso oggi sono venuti a riparare la porta ho aperto e c'era stavano per emozionare chi ha riparato la porta regalata regalata porta regalata ma bella congratulazioni Luis quando fai il baby shower beh appena appena nasce lo puliamo no no è quella cosa dove si fa una festa con l'alcol e si regalano delle cose no ma l'invito sarà tra nove mesi ma scusa mi sì ma scusa poi fermo questi no 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 ehi mettilo giù vai un po' a destra ok c'è un bambino palloncino è finto è simo ok 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 non sembrava c'è ma sembrava un bambino no è finto è finto è gonfiabile è un bimbo gonfiabile torniamo pure ai ai tiktok poi ci sentiremo in privato per capire sì torniamo torniamo pure state guardando sento le tastiere di webbo in fiamme comunque eh già anch'io anch'io salutiamoli ciao webbo vi obbio no andrea non è finito Grazie a tutti